Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. Oggi sono trascorsi 80 anni dalla giorno in cui Arezzo fu liberato dall'oppressione nazifascista. Era infatti il 16 luglio 1944, per la città è stata così una giornata di celebrazioni. Il 16 luglio del 1944 Arezzo veniva liberata dall'oppressione nazifascista. Oggi una serie di cerimonie e di celebrazioni che tra l'altro arriveranno fino a tardasera poi con uno spettacolo. Nell'Aretino è arrivata anche una rappresentanza dei Queen's Royals Lancers. Siamo qui per ricordare quello che i nostri soldati hanno sentito 80 anni fa. E' questo il modo migliore di legare il passato con il futuro. Senta il gesto di questa giornalista a San Polo, come lo interpretate e soprattutto che cosa può costruire? L'Europa. Questo è un gesto che supera le dinamiche di divisione dai torti e dalle ragioni, perché la storia dà torto e dà ragione, però crea anche le condizioni per un'Europa unita che superi questo periodo senza archiviarlo, ma considerandolo memoria comune. La memoria delle nostre radici è fondamentale, questo tutti lo dicono e diventa retorica poi continuare a dirlo. La memoria è un punto di riferimento, un punto di partenza, che però non deve essere fine a se stesso. Noi dobbiamo attualizzarla, dobbiamo far sì che i giovani capiscono, comprendano quello che è successo, quello in cui noi abbiamo impiantato, noi inteso le persone del post-guerra hanno contribuito a darci questa costituzione così elaborata, così ben fatta, così ben costruita per essere di riferimento nel tempo e non per un momento. Adesso la cronaca, le aziende del comparto Orofo ancora nella mirino dei ladri, quattro colpi tra tentati e messi a segno in una sola notte. Domani una delegazione di Orofi e Aretini, accompagnati dal prefetto Maddalena De Luca che dalla parlamentare Tiziana Nesini sarà ricevuta a Roma dal sottosegretario Nicola Molteni. Quattro assalti trasformati e messi a segno in una sola notte, nel mirino dei ladri, ancora una volta le aziende del distretto Orofo Aretino, il tutto a pochi giorni di distanza dall'incontro in prefettura proprio sul tema sicurezza. Quattro furti in una notte sono una cosa, secondo me, che si può leggere in un romanzo o vedere in un film. Attorno alle due una banda è entrata in azione in via Ramelli. Con una scala è riuscita ad entrare all'interno di un'azienda che si occupa di leghe per metalli preziosi, forzando una finestra, ha così fatto razzia di rame ed ottone, poi si è data alla fuga a piedi attraverso i campi dietro lo stabile. Purtroppo in otto mesi, questa è la terza volta che vengono a farci visita, e non avendo materiali come gli orafi, metalli preziosi, oro, argento e altri metalli, però soltanto metalli poveri e fanno soltanto danni. Questo è l'espettativo che è successo a maggio. Ho provato ad entrare e è scattato. Ho provato ad entrare, solamente che non sono riusciti perché è scattato solito l'allarme. Non ce la facciamo più realmente a dormire la notte, sempre avere il pensiero che suona l'allarme. La scia poi è proseguita, prima a Ruscello, poi a Tegoleto e Badialpino, a mettere in fuga i ladri il sistema di allarme. Il settore orafo adesso però è pronto a portare la questione al Viminale. In un distretto che dà lavoro a un comparto importante, più di 8 mila addetti, più tutto l'indotto, che subisce un attacco di questo genere, c'è bisogno di un invio di forze speciali e di una vicinanza particolare. Dopo una blitz dei NAS è stata disposta la chiusura di una RSA non autorizzata. Blitz dei NAS in un agriturismo dell'Aretino. Sul posto anche il personale dell'ASL Toscana Sud-Est. Secondo gli inquirenti, la struttura era assimilata ad una RSA, Residenza Sanitaria Assistenziale, senza le dovute autorizzazioni. La struttura in questione offriva una serie di servizi che potevano in qualche modo essere assimilati e ricordare quello che normalmente si eroga in una struttura per anziani non autosufficienti, in una Residenza Sanitaria Assistenziale. Abbiamo trovato anche persone che erano alcune di queste, chiaramente non autosufficienti, e quindi complessivamente una situazione un pochino particolare. La struttura in questione non è autorizzata come Residenza Sanitaria Assistenziale e quindi non ha quel tipo di autorizzazione che invece nel caso l'avesse avuta l'avrebbe autorizzata a erogare quel tipo di intervento. In tutto 24 le persone presenti al momento dei controlli. Con un'ordinanza il Comune ha intimato la chiusura dell'attività. Le persone che sono state trovate lì sono anziani che provengono da vari comuni sia di questo territorio che di altri territori. Probabilmente, o anzi sicuramente, il soggetto gestore dovrà contattare i familiari per valutare un loro riaffidamento alle famiglie che hanno inserito questi anziani, laddove queste famiglie ci sono, o nel caso gli anziani siano completamente soli, in quel caso dovranno essere contattati i servizi sociali di residenza dell'ospite per poter prendere in cura e in carico questa persona. Controlli anche in tre piscine sottoposte a verifica dagli ispettori del lavoro dell'ufficio territoriale di Arezzo. I controlli sono stati messi in atto nella fine settimana scorso. Due di queste sono risultati irregolari per il mancato inquadramento di parte del personale occupato e le conseguenti violazioni in materia di sicurezza. Per poter riaprire, i titolari delle due piscine hanno dovuto regolarizzare i lavoratori senza contratto. Per tutte queste violazioni a loro carico sono state messe ammende per oltre 10.000 euro e sanzioni amministrative per altri 9.000. Ed ancora cronaca, un incidente questa mattina a Marciano della Chiana, attorno alle 11.30, il personale sanitario dell'emergenza urgenza è stato allertato per prestare soccorso ad una cinquantenne, è rimasto ferito dopo una caduta dall'alto. Si tratterebbe di un incidente sul lavoro. L'uomo è stato ritrasportato in codice 2 all'ospedale della Fratta. Sul posto, oltre ai sanitari e alle forze dell'ordine, anche il servizio di prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il 118, invece, alle 13, è intervenuto lungo la strada regionale 71 in località Erriccio, nel comune di Cortona. Un uomo di 30 anni che si trovava in selle alla sua moto è stato trasportato in codice 2 all'ospedale della Fratta. Attivati anche il Pegaso e sul posto sono intervenute le forze dell'ordine. E adesso parliamo di salute. Dopo la pandemia crescono i dati relativi ai disturbi alimentari. Ad Arezzo, all'interno della clinica San Giuseppino, nasce così un centro dedicato. Il servizio che stiamo per mettere in atto, di fatto, è un unicum a livello toscano e quindi risponde a un'esigenza che è una delle più critiche in questo momento, sicuramente, a tutti i livelli, anche a livello nazionale. Nasce ad Arezzo il centro per i disturbi del comportamento alimentare. Anoressia, bulimia e disturbo da alimentazione incontrollata sono un fenomeno che interessa quasi 3 milioni di italiani, numeri in costante aumento. Il Ministero della Sanità, diciamo, ha verificato che, ad esempio, dopo la pandemia questa tipologia di disturbi sono raddoppiati, quindi c'è stato un incremento del 50% ed inoltre la fascia di età di insorgenza si è ridotta, quindi, ad esempio, fra gli adolescenti, addirittura con insorgenza intorno all'età di 10-12 anni. con una, diciamo così, equivalenza rispetto all'incidenza del disturbo nel sesso maschile e femminile, mentre invece sappiamo che fino ad alcuni anni fa si trattava di disturbi prevalentemente del sesso femminile. Ad Arezzo, per rispondere ai bisogni emersi anche sul territorio, è così nato il progetto all'interno della clinica San Giuseppino Sanità. C'è un cantiere in piedi che stiamo per terminare, volevamo dare contezza del fatto che già il 19 luglio inizieremo con l'attività ambulatoriale, quindi aperta all'esterno, logicamente, e per i primi di settembre apriremo invece il reparto residenziale, semi-residenziale o centro diurno, a tutti gli effetti. Quindi questa è la realtà. Che cos'è oggi la nuova San Giuseppino? Il centro prevede ambulatori dedicati ad una struttura per il trattamento e recupero dotata di otto posti di tipo semi-residenziale e dodici di tipo residenziale e si avverrà di un'equip multidisciplinare. L'attività si articolerà in tre livelli di intervento di tipo non ospedaliero. Noi metteremo in atto la semi-residenzialità dai primi di settembre, comunque sempre dedicata agli adulti. A novembre andremo con la struttura invece di residenziale completa, che logicamente è misurata su bisogni particolari che non consentono il mantenimento in famiglia sostanzialmente. Con la fine dell'anno invece affronteremo il settore minori, che rappresenta per noi un equivalente degli adulti, nel senso che 10 posti a disposizione per gli adulti e 10 posti a disposizione per i minori. Però con i minori inizieremo alla fine dell'anno sostanzialmente. Arezzo è anche alla centro di una tesi di specializzazione in pneumologia. Vediamo. Un modello, quello che è stato implementato e sperimentato nel reparto di pneumologia dell'ospedale San Donato di Arezzo, che consente ai pazienti aretini di non spostarsi per un esame molto invasivo. Ne parliamo con il primario, il dottor Raffaele Scala. Si tratta di una procedura poco nota al pubblico, si chiama toracoscopia medica. Come dice il nome, è un esame che va a guardare all'interno del torace. Per quale motivo? Per tutte quelle patologie che interessano la pleura, che è un rivestimento intorno al polmone. Nel momento in cui ci sono delle patologie, di solito si accumula del liquido, si parla di versamento pleurico e molto spesso non è sufficiente soltanto analizzare il liquido, è necessario guardare all'interno della cavità toracica e seguire delle biopsie. Quindi si tratta di un esame sicuramente invasivo, che nella maggior parte dei casi viene seguito dal chirurgo toracico in sala operatoria con il supporto degli anestesisti rianimatori. Qui ad Arezzo, dopo la centralizzazione di tutti gli interventi di chirurgia toracica, quindi anche questo, a Siena, abbiamo iniziato negli ultimi anni ad attivare questa procedura che è dettatora con scopia medica, che facciamo non in sala operatoria, lo facciamo ovviamente in ambiente monitorizzato con un'equip medico-infermeristica preparata sia per eseguire la procedura in maniera mini-invasiva sia per eseguire ovviamente poi il monitoraggio e la sedazione. Richiede il ricovero di qualche giorno, però i vantaggi, come appunto vanno sottolineati, sono quelli che il paziente della nostra città non ha bisogno di essere trasferito nell'ospedale universitario di Siena e non c'è l'impegno dal punto di vista sia umano che economico della sala operatoria e dell'anestesista. Sono circa 200 le procedure eseguite ad Arezzo senza registrare alcuna complicanza grave e con l'ottenimento della diagnosi nel 95% dei casi. Il modello aretino è al centro anche di una tesi di specializzazione in pneumologia. il lavoro è stato pubblicato su una rivista scientifica internazionale. Sicuramente noi, tra l'altro, come società scientifica pneumologica nazionale, anche a livello regionale, stiamo cercando di spingere verso l'estensione di queste e anche altre procedure interventistiche da eseguire in maniera autonoma la parte di un'equip preparata, esperta del pneumologi e di infermieri anche perché il compito del chirurgo toracico è diverso, quindi legato a interventi maggiori. Quindi questo modello sicuramente è un modello che speriamo che possa essere esportato ed è presente non in tanti centri a livello del territorio nazionale. Abbiamo avuto anche uno specializzando l'Università di Napoli che nel contesto del suo percorso formativo ha pubblicato un lavoro confrontando i casi di toracoscopia medica eseguiti qui ad Arezzo in un'equip solo pneumologica di medici e infermieri con quella invece che viene chiamata videotoracoscopia che è un intervento chirurgico eseguito alle scotte a Siena e dai risultati non è emersa nessuna differenza in termini di capacità della procedura di arrivare alla diagnosi, che è la cosa più importante c'è capire perché c'è questo versamento preurico e col vantaggio appunto di minore spese, di non necessità della sala operatoria e quindi del maggior conforto anche del paziente. Cambiamo argomento, ci spostiamo a Bibiena dove il sindaco Filippo Vagnoli si è recato in visita ad Emilia Macconi una signora originaria di Ortignano Raggiolo ma che da tantissimi anni vive a Sochi il motivo è legato al compleanno speciale della donna arrivata a 100 anni lo scorso 4 luglio sua figlia la definisce una donna determinata che ha saputo trasformare il dolore in una spinta vitale ad aiutarla in questa magia positiva anche la pratica della lettura per il suo centesimo compleanno la donna non poteva che chiedere tre libri uno dei quali parla della condizione delle donne nell'immediato dopoguerra voltiamo pagina adesso come ogni estate infatti è tornata la campagna di EMPA contro gli abbandoni se uno è deciso ad adottare un cane o un gatto deve essere per sempre non ci sono scuse il lavoro, la casa, le vacanze, la famiglia bisogna fare un'adozione consapevole basta scusa se abbandoni un animale il problema sei tu è questo il claim scelto per la campagna 2024 di EMPA che torna a puntare l'attenzione sulla piega degli abbandoni di frequente estivi ma non solo degli animali da compagnia la situazione al canile di Arezzo è emergenziale in questo caso soprattutto per gli abbandoni di cucciolate e di gattini che vengono portati alla struttura non abbiamo mai avuto così tanti gattini in un recinto insieme perché noi solitamente i gatti li teniamo in quarantena in delle gabbie dove completano tutta la profilassi vaccinali e poi li mettiamo nel recinto insieme a altre cucciolate perché tanto sono tutti sani, vaccinati, sverminati però così tanti insieme ora al momento sono 12 noi li prendiamo, li accogliamo ovviamente fino a che abbiamo posto perché se non abbiamo adozioni i gatti non escono noi non possiamo prendere nuovi gatti questi infine consigli di EMPA se si assiste ad un abbandono di un animale in caso di animale abbandonato chiamate, contattate il cane ovviamente trovate un cane per strada si interviene si controlla se ha il microchip o no si ritrova la sua famiglia se l'avesse e per i gatti la situazione è più complicata perché comunque i gatti sono animali considerati randagi per legge quindi non c'è l'obbligo di microchip e ovviamente è più difficile ritrovare una famiglia se ce l'avevano o no il microchip è stato fondamentale per i cani potrebbe essere una soluzione anche per i gatti? sì, anche per i gatti aiuterebbe molto poi i gatti ancora c'è una gran parte di gatti che sono randagi, selvatici, forastici che quindi una famiglia non ce l'hanno e ovviamente lì è anche difficile la sterilizzazione e controllare le nascite perché non essendoci un proprietario però piano piano ci si prova ad Arezzo due giorni dedicati all'antispecismo al mondo degli animali e della cucina vegetale con presentazioni di libri, dibattiti, spettacoli, teatrali, documentari mostre fotografiche, campagne di salvataggio animali e testimonianze di chi gestisce rifiuti il tutto gustando cibo vegan sarà infatti questo Muschiofest in programma sabato 20 e domenica 21 luglio ad Arezzo dalle 15.30 alle 21 nello spazio di Mengo 2.0 in via Alfieri il festival è ideato da un collettivo di attivisti aretini Muschiofest e domani invece in Casentino inizia la settima edizione di Naturalmente Pianoforte è un legame con la natura che nasce dal basso questa sfida ci piace molto l'abbiamo colta volentieri e quindi questo festival diventa un po' l'ambasciatore del parco della natura con tutti i suoi personaggi quest'anno lo dedicheremo soprattutto agli ambasciatori con la presentazione di un libro su questo tema e alcuni personaggi che verranno anche dentro il parco a fare delle cose speciali Nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e della Verde Vallata del Casentino l'edizione numero 7 di Naturalmente Pianoforte porterà musica, cultura, arte e tanto altro il festival nato a Prato Vecchio Stia adesso toccherà tutte le località della Vallata siamo alla settima edizione è un'edizione molto particolare perché ci permette di raggiungere un po' l'obiettivo che ci avevamo dati fin dall'inizio che era quello di far diventare naturalmente Pianoforte una manifestazione di Vallata quindi quest'anno per la prima volta andiamo a toccare tutti quelli che sono i comuni appunto della Vallata Casentinese ci saranno delle grosse novità perché non sarà soltanto musica ma avremo arte, avremo fotografia, avremo pittura avremo una nuovissima carovana che si muoverà per tutta la Vallata Casentinese che sarà una cosa abbastanza particolare avremo le masterclass che abbiamo sempre avuto quindi una manifestazione veramente completa ad aprire la manifestazione saranno Paolo Iannacci e Frida Bollani Magoni il 17 luglio a Bibbiena un incontro tra due talentuosi artisti che nasce dalla volontà di mettere in comune la loro poesia il 20 luglio arriverà poi Eugenio Finardi ma non solo musica, ci sarà spazio anche per il trekking il festival quest'anno aggiunge infatti una novità naturalmente carovana la carovana è la proposta di affacciarsi a questa tavolata con uno stile diverso ovvero sia andando a piedi davanti a una tavola bisogna fare delle scelte non si può mangiare tutto appena il rischio di indigestione e di stare peggio dopo invece che meglio l'idea quindi è di nutrirsi a passo d'uomo come la natura spesso ci invita a avere un ritmo lento e quindi noi ci muoveremo lungo il festival e quasi esclusivamente a piedi e il festival ci accompagna non solo perché ogni sera troveremo dei concerti e delle proloco che ci ospitano e che ci offrono le ricchezze enogastronomiche del territorio oltre che la loro voglia di relazione con noi ma anche perché il parco e gli altri enti che vi ho detto all'inizio hanno messo delle risorse perché con la carovana camminassero degli artisti e quindi durante il cammino faremo delle tappe artistiche in buona parte saranno dedicate fra l'altro alla memoria quest'anno sono 80 anni dalla linea gotica da molti episodi tristi che ci sono stati ma alcuni anche eroici in realtà e ne faremo memoria non come una processione che va a fare una cronaca ma cercheremo proprio di rientrare tramite il teatro, tramite la musica in questo tema perché la memoria non è un cippo che la conserva la memoria la conservano la nostra capacità di emozionarci di portare nel cuore alcune cose ecco la carovana vuole essere un invito a far scendere nel cuore delle emozioni per sedimentarle e magari diventare un pochino migliori Tappa in Valdichiana del Moonlight Festival On Tour l'evento letterario di Confesercenti giovedì 18 luglio a Castiglion Fiorentino alle 21.30 nel Chiostro di San Francesco l'incontro con Paolo Giulierini già direttore del Museo Archeologico Nazionale di Napoli autore del libro L'Italia prima di Roma sulle tracce degli antichi popoli italici e sempre in Valdichiana a Cortona una delle tappe della tour di Giorgio Panariello e Marco Masini l'insolito 2 sarà infatti protagonista nell'ambito della 62esima Cortona Antiquari il prossimo primo settembre lo spettacolo si terrà in piazza Signorelli alle 21.30 e le prevendite iniziano già da domani due artisti Panariello e Masini con ognuno con la propria sensibilità si incontreranno e scontreranno in una sfida tra battute e canzoni nell'arena estiva di tutta Italia l'Arezzo Smart Festival invece torna nella fortezza medicea di Arezzo con lo spettacolo Il Carnevale degli Inzetti di Stefano Benni con Amanda Sandrelli Paolo Giovanucci e l'orchestra multietnica di Arezzo in una produzione firmata da Officine della Cultura l'appuntamento è per domenica 21 luglio con inizio alle ore 21 lo spazio espositivo di Rosi Boa di Arezzo ospita invece sino al prossimo 8 settembre una bipersonale dal titolo Attraversamenti dialogo a due sul fluire dello spazio Il dialogo fra di loro seppur è complicatissimo perché sono effettivamente due linguaggi completamente diversi in questa struttura diventano complementari Il titolo scelto è infatti Attraversamenti dialogo a due sul fluire dello spazio e si tratta di una bipersonale nel salone espositivo di Rosi Boa ad Arezzo in mostra le opere di due artisti romani d'eccellenza come Prima Rosa Cesarini Sforza e Tommaso Cascella che reinterpretano e ridefiniscono lo spazio attraverso le loro opere 60 in tutto realizzate tra il 2000 e il 2024 Due linguaggi completamente diversi da una parte quello di Tommaso Cascella che ha un intervento diciamo costituito da pitture che sono architetture costellate da simboli e che determinano uno spazio che è prima di tutto volumetrico uno spazio che è da attraversare e da farsi attraversare dall'altra uno spazio invece più lineare più carico di racconto, di memoria, di identità che è quello di Prima Rosa Cesarini Sforza la quale appunto mette qui in evidenza anche altre tantissime forme di attraversamenti nel senso che ci sono attraversamenti stilistici attraversamenti tematici nel senso che ci sono lavori in ceramica in vetriata su carta, ricamo, assemblaggi, tessuti dipinti insomma le forme di attraversamento sono veramente diversificate e molto sfidanti per l'osservatore La mostra resterà visitabile sino all'8 settembre 2024 Adesso la pagina dello sport l'Arezzo calcio femminile riaccoglie squadra azzurra Corazzi centrocampista classe 2001 ha già vestito la maglia Maranto nella prima parte della scorsa stagione passata poi al Parma a gennaio è terminato il campionato di serie B con le Ducali adesso è di nuovo pronta ad indossare la maglia dell'Arezzo calcio femminile La scuola basketarezzo invece comunica la prosecuzione del rapporto con il dottor Simone Marracini che sarà anche per la stagione 2024-2025 il responsabile dell'area fisica e medica della società per Marracini una vera e propria istituzione della SBA per la sua professionalità e dedizione adesso il superamento in Amaranto delle 20 stagioni al seguito della squadra Questa per stasera l'ultima notizia vi ringrazio per l'attenzione arrivederci